Buonasera a tutti da Manfredonia, da Aldonino e Denzo. Da oggi da Manfredonia inizia il nostro percorso per le città della provincia di Foggia per vedere le novità del Natale 2022. Come ogni comune che noi gireremo vi posteremo un video e delle foto. Oggi è Manfredonia, la prossima penso che sarà Candela oppure qualche altro comune della provincia di Foggia. Da noi è un grande saluto, un abbraccio e grazie di seguirci. Ciao! Ciao a tutti! Alla prossima! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti